carissimi pace pace del signore buona giornata di benedica oggi vogliamo continuare a leggere nel capitolo 2 del libro di ruth leggeremo un po quello che è scritto in questo capitolo e faremo delle breve riflessioni è un capitolo che ci racconta l'incontro che ruth ha con boaz un incontro a distanza sia chiaro che avviene in quanto ruth decide di andare a spigolare in un campo secondo l'usanza che c'era a quei tempi per permettere ai poveri di poter avere di che sostenersi e sostentarsi solitamente quando nei campi veniva raccolto il grano le spighe che cadevano i metitori non si fermavano per riprenderle ma le lasciavano a terra e ai bordi dei campi si lasciavano delle spighe e tutto questo affinché le persone povere indigenti che non avevano proprietà e che quindi non potevano sostenere la propria vita avessero di che alimentarsi e di che sostenersi e ruth dice proprio a nomi lasciami andare a spigolare nomi gli diceva bene vai a ruth capita per caso dice la scrittura in un campo che apparteneva a un certo boaz che era un potente ricco uomo che abitava a betelemme che tra l'altro apparteneva alla famiglia di elimele che quindi era un parente di nomi stessa ora è vero che la scrittura dice per caso ma noi crediamo che dietro il caso c'è sempre la guida del signore e che per quelli che amano e temono il signore nulla avviene per caso ma tutto è una conseguenza dell'opera di dio che guida la vita dei suoi figli attraverso le circostanze perché nel bene e nel male tutto coopera al bene di quelli che amano e temono il signore ruth va si mette a spigolare boaz arriva da betelemme e dice ai mettitori il signore sia con voi e i mettitori gli risponderò il signore ti benedica che bel modo di salutarsi no oggi delle volte quando incontri le persone vedi spesso degli sguardi che non trasmettono certo dei buoni sentimenti e invece grazie a dio queste persone si salutavano in un modo bello passatemi il termine cristiano ed è importante che ancora noi oggi abbiamo questo modo di salutarci perché anche questo è una testimonianza di come il signore ha operato nella nostra vita il pace a voi il signore ti benedica sono delle belle espressioni che forse chi è intorno a noi non può comprendere ma che devono essere l'espressione di sentimenti sinceri reali che noi nutriamo per la grazia di dio che vive ed opera nei nostri cuori e boaz chiede chiede chi sia quella fanciulla che sta spigolando è un servo che era incaricato della sorveglianza dice è una fanciulla moabita quella che è tornata con nomi dalle campagne di moab ci ha chiesto di spigolare di raccogliere le spighe cadute dai mannelli e lì da stamattina e solo ora si è seduta nella casa per un po e allora boaz dice al rutto evidentemente la raggiunge figlia mia ascolta non andare a spigolare in un altro campo non allontanarsi da qui rimani con le mie serve guarda dove si miete vedi dopo è possibile spigolare e quando avrai sete vai e bevi dei vasi d'acqua che i servi avranno a tinta allora lutto rimane sorpresa meravigliata si getta con la faccia a terra gli dice come mai ho trovato grazie agli occhi tuoi così che tu presti attenzione a me che sono una straniera e boaz gli dice mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera e come hai abbandonato tuo padre tua madre il tuo paese per venire a un popolo che prima non conoscevi il signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la ricompensa tua sia piena da parte del dio di israele sotto le cui ali sei venuta a rifiutarsi a rifugiarti ed è bello vedere le parole e ascoltare le parole di boaz perché sono le parole di un uomo che ama dio di un uomo il cui cuore è generoso di un uomo che ha compassione ha misericordia per il prossimo di un uomo che veramente è un esempio per la nostra vita sapete che boaz è anche un po la figura di cristo e l'invito che viene fatto da boaz a questa ragazza di non allontanarsi da quel campo ma di andare a dissetarsi quando ne avrà bisogno ai vasi che i suoi servi hanno è un invito che viene fatto a tutti quanti noi credenti a quelli che abbiamo il desiderio di fare la volontà di dio non allontaniamoci dal campo del signore non andiamo a bere ad altre sorgenti se non a quelle che possiamo trovare presso i servi del nostro boaz del nostro cristo di quanti sono stati chiamati dal signore amministrare la sua parola affinché l'anima nostra possa essere sfamata e dissetata non andiamo lontano perché lontano non è detto che troveremo acqua oggi diremmo potabile non è detto che troveremo cibo che è capace di alimentare forse troveremo anche acqua e cibo ma è probabile che sarà un'acqua amara un'acqua avvelenata è possibile che sia un cibo che ci farà soltanto del male e che porterà tristezza nel nostro cuore rimaniamo nel campo di boaz rimoniamo nelle vie del signore nutriamoci della sua santa e benedetta parola dissetiamoci alla sorgente d'acqua viva che possiamo trovare nella sua presenza il nostro cuore ne trarrà sicuramente beneficio brutto inoltre è una donna che si impegna a lavorare senza fermarsi è un po figura della chiesa che opera che agisce che è vero forse non può godere di grandi beni e di grandi privilegi ma la cui speranza è nel signore e dio ci aiuti ad essere instancabili nel servire dio perché la nostra fatica non è vana se viene fatta nel signore luci piccolò fino a sera il signore ci aiuti a spigolare fino all'ultimo respiro della nostra vita fino a quando il signore non ci chiamerà nella sua presenza ci aiuti ad essere sempre al suo servizio senza mai fermarci e senza mai sederci ma anzi continuando ad amarlo a servirlo ad onorarlo tutti i giorni della nostra vita e quando rutto torna a casa la suocera gli chiede dove hai spigolato oggi dove hai lavorato benedetto sia colui che ti ha fatto una così buona accoglienza rutto dice alla suocera sono andato da boaz e no mi dice a sua nora sia benedetto il signore perché non ha rinunciato di mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti e aggiuste questo uomo è parente stretto ed è quello che ha diritto su di riscatto quindi ruth dice mi ha detto rimani con i miei servi finché sia finita la mia titura e no mi dice a ruth suonora ebbene figlia mia che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo e ancora noi vogliamo dire sia benedetto il signore che siamo capitati nel campo di boaz che siamo nella grazia di dio che possiamo vivere la nostra fede secondo la parola di dio sia benedetto il signore perché abbiamo trovato un grande tesoro abbiamo trovato la perla di grande valore e vogliamo seguire il consiglio di nomi non andare in un altro campo ma rimanere nella presenza di dio perché abbiamo trovato chi veramente sa dare un senso alla nostra vita e chi sa consolare i nostri cuori anche nei momenti più tristi che dobbiamo attraversare coraggio cari seguiamo l'esempio di rutto ascoltiamo le parole di boaz e di naomi e l'anima nostra ne trarrà dei grandi benefici la sua grazia la sua pace il suo amore la sua presenza sia con noi ancora oggi dio ci benedica insieme